Nasce la partnership tra Omnicom Media Group e Chidea, un vero e proprio colosso della comunicazione media con la testa a Milano e il cuore a Napoli. Il leader mondiale dei servizi di comunicazione è identificato in Campania l'agenzia fondata da Raffaele Guarino e Stefano Volpe, grazie al modello di business messo in campo nei confronti delle realtà imprenditoriali del territorio. La Campania e Napoli in particolare sono percepite come aree con un grande potenziale, come conferma Marco Girelli, CEO di Omnicom Media Group. Il contributo maggiore che potremmo dare Omnicom con Chidea riguarda soprattutto lo sviluppo di tutte le competenze del mondo digitale. È ovvio che la trasformazione digitale sta trasformando anche il grande patrimonio umano delle aziende. E quindi sono certo che noi saremo in grado di poter portare un arricchimento, poter portare intanto opportunità per le persone che verranno a lavorare con noi, ma anche che potranno trovare un mercato estremamente più ricco e più allargato. Alle tradizionali eccellenze riconosciute in tutto il mondo, dal cinema all'arte, dal turismo all'food, si unisce la nascita dei più recenti poli di innovazione, dove convivono realtà come Apple, Cisco, Nokia e Tim, per citarne alcune, che rappresentano un importante acceleratore economico, sociale e professionale per tutta l'area. Il PIL della regione Campania è in crescita con una previsione del 4,2% per il 2021 e una prospettiva di sviluppo maggiore legata ai fondi messi a disposizione dal PNRR. Un'opportunità cruciale per sostenere progetti di imprenditorialità, innovazione e transizione digitale nei prossimi anni, ma anche per consentire ai cervelli in fuga di rientrare, operazione che Chidea ha già messo in campo da tempo. Noi come Chidea sono anni che abbiamo avviato un processo al contrario, cioè proviamo a recuperare i nostri cervelli campani e pian piano ne abbiamo già riportati sei in azienda da noi. Continueremo su questo percorso. La nuova sede che speriamo di aprire entro un anno prevederà un'area dedicata alla formazione, perché oggi senza formazione, senza dati, senza ricerche non si possono aiutare le aziende a comunicare nel modo più giusto.